Il canalone rappresenta uno dei punti di immersione più interessanti tra quelli che si possono effettuare nell'area marina protetta di Bergeggi. È ubicato sul versante di nord-est dell'isola di Bergeggi e caratterizzato da uno sperone di roccia che dalla superficie prosegue in profondità. La punta, spesso, è lambita da correnti, quindi frequentata nel periodo di passo da pesce pelagico. La morfologia del fondale è ideale per dar rifugio a pesce di tana, ma anche per ospitare dalla primavera in poi grandi esemplari di rana pescatrice. Punto di maggior interesse dell'immersione è però la parete, che da 20 metri scende verticalmente fino a una trentina di metri di profondità. È completamente tappezzata da una colonia di margherite di mare, i Parazoanthus. La risalita avviene tra l'esplorazione della parete e massi isolati che arrivano a pochi metri dalla superficie, fino a raggiungere il punto di partenza. La risalita avviene tra l'esplorazione della parete e massi isolati. La risalita avviene tra l'esplorazione della parete e massi isolati. La risalita avviene tra l'esplorazione della parete e massi isolati. La risalita avviene tra l'esplorazione della parete e massi isolati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.